Chiamerei sul parco Malco Milani per il primo intervento che accoglierei con un applauso. Me lo fanno da... Ho un amico compiacente. Intanto grazie, grazie molto per l'invito, è un piacere, è anche un onore sicuramente. Noi siamo qui a parlare di crescita, ma se devo essere sincero, noi in Indesit negli ultimi sei anni di crescita ne abbiamo vista veramente poca. E sto parlando degli ultimi sei anni, perché se partissi dal 2007 dovrei dire che al posto della crescita abbiamo avuto un arretramento. Partiamo però dal 2005, da sei anni fa più o meno. Abbiamo fatturato più o meno costante intorno ai 3 miliardi, è salito un po' fino al 2007, poi è sceso, diciamo che siamo lì. Non è cambiato molto. Allora, siamo stati lì a grattarci la pancia. Beh, onestamente no, francamente no, perché da una parte siamo riusciti a difendere la reddittività dell'azienda. Il nostro EBIT si aggira sempre intorno ai 150 milioni, minimo di 120, un massimo di 190. E siamo riusciti a proteggerlo in un mercato che, ad esempio, ci ha portato via nel corso dei sei anni 150 milioni di pur effetto cambio di reddittività, la forza dell'euro. Ecco, noi la misuriamo in maniera molto precisa, sei anni 150 milioni dal EBIT se ne sono andati. E siamo riusciti a proteggere la nostra reddittività in un mercato in cui il prezzo delle lavatrici, medio nel corso dei sei anni, è calato del 5%. Dall'altra parte abbiamo difeso una quota di mercato significativa, siamo il numero due in Europa come volume di elettronomestici venduti, abbiamo 13% di quota di mercato e quindi l'abbiamo dovuta sostenere questa quota. Come l'abbiamo sostenuta? L'abbiamo sostenuta con investimenti in nuovi prodotti, ogni anno investiamo un po' meno di 150 milioni di euro e anche questo l'abbiamo dovuto fare senza crescita di fatturato. E dove le abbiamo pigliate le risorse? Sostanzialmente le abbiamo pigliate dai costi, perché noi abbiamo tirato fuori in sei anni circa 250 milioni di riduzione di costi. Lo so che è molto più bello crescere e aumentare i ricavi, però quando questo non succede bisogna lavorare in maniera inversa. 250 milioni di costi le abbiamo tirati fuori per circa metà dal costo del prodotto. Come? Efficienza in fabbricazione, quindi nei processi industriali, efficienza di design, quindi nella progettazione e nell'industrializzazione dei nostri elettronomestici e anche, molto buona parte di questo, nel ribilanciamento della nostra presenza manifatturiera dall'Europa occidentale verso l'Europa orientale. Eravamo 60-40, siamo oggi 40-60. L'Italia per noi è ancora molto significativa, rappresenta il 35% dei volumi prodotti, anche se invece pesa solo per il 15% sulle nostre vendite. E la situazione è abbastanza pesante, perché oggi spostare una produzione dall'Italia alla Polonia significa risparmiare per un elettronomestico il 10% di costo, solo in virtù del costo del lavoro. Oggi il costo del lavoro per noi in Italia si aggira intorno ai 21 euro, il costo del lavoro in Polonia è di 4 euro, la differenza è di 15, arrotondando, e quindi un'ora è quello che serve a produrre un elettronomestico, il costo medio è 150-10%, è un calcolo matematico. L'altra metà di questi soldi l'abbiamo tirato fuori da dove? Dal miglioramento della qualità dei nostri prodotti. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco, perché nel 2005 ci siamo resi conto che c'era un'opportunità sia di qualità e quindi di riconoscimento da parte dei clienti, sia di costo. 130 milioni di riduzione dei costi del servizio, che sono venuti da riduzione dei costi di assistenza tecnica. Noi siamo in un settore in cui l'assistenza tecnica, la garanzia costa tantissimo. Noi siamo tra i pochi che vengono a casa vostra a riparare la lavatrice. La macchina la portate dal concessionario, il piccolo elettronomestico lo portate presso un laboratorio, altri prodotti li spedite indietro. Noi veniamo a casa vostra e ripariamo. Sono altissimi i costi di assistenza tecnica. Una riduzione di oltre il 60% della difettosità dei prodotti, insieme a un'efficienza nell'attività di servizio, ma di questo parleremo meglio dopo, ha portato questa grande riduzione. Allora siamo riusciti a sostenere cinque anni di non crescita, chiamiamola, andando ad agire sui costi. Cosa succede ora? Continuiamo così? Andiamo avanti in questo modo? No, onestamente no. Non c'è più l'opportunità. Non c'è l'opportunità e non c'è direi nemmeno la volontà in un certo senso. L'opportunità non c'è perché riduzione di costo di questa dimensione noi non riusciremo più a portarla. Il ribilanciamento della produzione, sì, possiamo fare ancora qualcosa, ma non riusciremo a ottenere valori di questo genere sicuramente. E dall'altra parte il miglioramento della qualità, per definizione, non ha un limite, non ha un asintoso, ma diventa sempre più delicato, più difficile e il rapporto costi-benefici non è più in favore dei benefici come lo è stato finora. Poi c'è anche un altro motivo che è diverso. Prima sentivo parlare di persone, di capitale umano. Non possiamo non crescere, perché se ci abituiamo a non crescere in azienda è un disastro, perché noi siamo un'azienda che è cresciuta tantissimo, che è l'azienda che nel nostro settore negli ultimi vent'anni è cresciuta di più. Sono cinque anni che siamo fermi, ma se la gente si abitua a non crescere è un disastro, la mentalità è rotta, è persa. Perché si perde il concetto di potenza e di capacità di svilupparsi e di essere più bravi degli altri. E questo è un qualche cosa che noi non possiamo assolutamente accettare, che forse è più pericoloso dell'altro fattore. Allora, se parliamo della ineluttabilità, della crescita, noi sicuramente credo che siamo un caso esemplare, perché il grandissimo lavoro che abbiamo impostato ormai da due o tre anni è per lo sviluppo futuro. E dove andiamo a crescere? La prima domanda che noi ci poniamo ovviamente è dove cresciamo? Quali prodotti? Quali mercati? Abbiamo un concetto abbastanza chiaro da questo punto di vista, che è questo. Noi riteniamo di dover crescere in Europa. So che suona un pochino strano rispetto a tutto quello che si sente in giro, però noi siamo assolutamente convinti che crescere in Europa per noi sia molto più importante che non aumentare un fatturato in India o in Brasile. In Russia ci siamo e siamo leader di mercato, quindi è casa nostra. O ad esempio in Cina. Per due motivi. Il primo è che il mercato dell'elettrodomestico è un mercato che noi pensiamo sia ancora molto continentale. Le sinergie tra continenti sono ancora molto basse, nel senso che i prodotti sono abbastanza diversi e quindi bisogna svilupparli in maniera specifica nei vari continenti, con i relativi costi. I fornitori solo raramente sono globali. Noi stimiamo che un 10% dei nostri acquisti sia fatto in maniera globale. Sostanzialmente parliamo di fornitori cinesi che sono in grado di fornire per la loro competitività di costo un po' tutti. Dal punto di vista della fabbricazione, l'elettrodomestico è una scatola vuota. Il valore per unità di volume che si porta in giro è molto basso. Per cui portare in giro gli elettrodomestici è un disastro. Noi soltanto muovendo gli elettrodomestici in Europa spendiamo tra il 6 e il 7% del nostro fatturato, che è un valore elevatissimo. Il che significa che andando in America bisogna produrre in America, andando in Cina bisogna produrre in Cina. E per ultimo le sinergie eventuali di marca sono per definizione locale, in quanto campagne pubblicitarie e notorietà a livello globale sono abbastanza rare. Normalmente la notorietà viene costruita a livello o nazionale, molto più spesso, o a livello continentale. Il che significa che per crescere in Europa, per i motivi che abbiamo detto, noi abbiamo due opportunità. Uno, crescere in maniera esterna. L'altro, in maniera organica. esterna significa M&A, significa acquisizioni. E qui viene buono il lavoro fatto negli anni passati. Perché è vero che siamo riusciti a proteggere la redditività, che siamo riusciti a proteggere la nostra quota di mercato, ma siamo anche riusciti a generare quasi mezzo miliardo di free cash flow. Abbiamo pagato 180 milioni di dividendi ai nostri azionisti e abbiamo ridotto il nostro debito finanziario di 300 milioni. Il che significa che oggi abbiamo una situazione patrimoniale solida e quindi possiamo permetterci di guardare in giro. E quindi qualsiasi opportunità si dovesse porre, e su alcune stiamo già lavorando, in Europa la prenderemo senz'altro. Devo dire che questa situazione molto solida è frutta di un po' di saggezza, perché nel 2007, prima che succedesse il patatrack nel mondo, ma particolarmente nell'Europa in cui noi operiamo, le banche ci dicevano, ma perché non vi indebitate di più? Voi non usate la leva, indebitatevi, indebitatevi. Per fortuna siamo stati saggi, perché credo che altrimenti l'anno dopo e quello successivo avremmo avuto dei risultati molto negativi. Per vostra informazione, il mercato dell'elettromestrico, leggevo che ieri è stato detto che il mercato dell'auto si è ridotto, se non sbaglio, di un milione rispetto al piccolo del 2007. La Spagna rispetto al 2007 fa meno 40%, l'Inghilterra meno 30%, l'Italia meno 15%, la Francia meno 5%, la Germania è un pochino sopra insieme alla Russia rispetto al piccolo del 2007. Complessivamente un mercato di 100 milioni di elettrodomestici in Europa all'anno si è ridotto di circa 15 milioni. Forse non è pesante come quello dell'auto, però la situazione sicuramente è abbastanza delicata. Dall'altra parte la grande opportunità che abbiamo è quella di crescita organica. Crescita organica in che modo? Prodotti, mercati. Dal punto di vista dei mercati abbiamo la fortuna di avere posizioni forti in alcuni mercati che stanno crescendo, perché non tutta l'Europa va male. La Russia cresce a ritmi del 15% nella prima parte dell'anno. La Turchia cresce intorno al 25%. Siamo leader assoluto in Russia, così come lo siamo in Inghilterra, in Italia, in Ucraina, e in altri mercati. In Turchia non siamo così forti, però siamo i numeri due dei non locali, degli occidentali, dopo un altro player. E quindi abbiamo una grossa opportunità di crescere là dove il mercato cresce. In Russia, per poter non perdere l'opportunità, investiremo 250 milioni in stabilimenti nuovi, prodotti nuovi, innalzamento della gamma di prodotti, attività commerciali, distributivi, organizzazioni in generale, logistica, nei prossimi anni. Dall'altra parte abbiamo l'opportunità del prodotto. L'opportunità del prodotto è analogamente molto grande, perché quel che abbiamo fatto di buono negli anni di non crescita è in ogni caso quello di continuare a investire. Quindi ora abbiamo, nei punti vendita di tutta Europa, una gamma di prodotti nuovi, il nostro marchio più bellino che si chiama Hotpoint, e che in questo momento sono tutti prodotti ad alta efficienza energetica e di prestazioni più elevate che attendono di essere vendute. E nel momento in cui si vendono, portano sicuramente ricavi unitari più elevati, margini più elevati. E quindi per noi, da questo punto di vista, significa quota particolarmente a valore più alto. In più abbiamo delle categorie di prodotto in cui abbiamo delle buone possibilità di crescita, perché sono categorie che crescono all'interno di un mercato ancora negativo, le lavastoviglie, l'incasso, cose del genere. Quindi abbiamo opportunità di svilupparci. In più, a fine anno, andiamo a cercare anche crescita da un'altra parte, in categorie affini, perché non possiamo rimanere dove siamo. Quindi ci siamo fatti un po' la punta al cervello per andare a cercare di svilupparci altrove. Partiremo con i piccoli elettrodomestici. Perché piccoli elettrodomestici? Perché tecnologia diversa a monte, stesso canale distributivo a valle. Mai cambiare tutte e due le cose insieme, è un disastro. O si vendono prodotti simili in canali diversi, o si vendono prodotti diversi nello stesso canale. fare leva o sulla parte tecnologica o sulla parte commerciale. Quindi, opportunità di crescita nei due modi. Abbiamo fatto un'organizzazione specifica da questo punto di vista. Ci siamo organizzati con delle divisioni che mettono insieme tutto il ciclo di vita del prodotto. Dalla parte di sviluppo del prodotto, fino alla parte della progettazione, alla parte dell'industrializzazione, fino alla parte del lancio, per poi ricominciare con un nuovo prodotto. è un qualcosa di abbastanza nuovo. Abbiamo allargato la responsabilità delle nostre persone da tu fai le lavastoviglie a tu ti occupi di home care, tu fai i forni, tu ti occupi di food treatment, per cercare di dare possibilità a queste persone di allargare il loro modo di pensare a categorie diverse e più ampie. E poi, visto che questo è un settore maturo, magari è abbastanza maturo per un cambiamento più significativo. E quindi abbiamo creato una terza divisione, che è la divisione dei servizi. Noi ci siamo fatti una bella esperienza sui servizi. In Inghilterra, per dire, abbiamo mille tecnici diretti che vanno in giro con mille furgoni, mille computer, mille telefoni cellulari, e 400 persone nel call center, per fare appunto quel lavoro di assistenza tecnica di cui parlavamo prima. E quindi vorremmo, e stiamo, e facciamo, e stiamo sviluppando l'utilizzo di questa organizzazione eccezionale per andare a passare da un mercato totalmente hardware, esageriamo un po', a dire un mercato un pochino più software, dal vendere un prodotto soltanto a vendere un pacchetto prodotti e servizi. Io ti do la lavatrice, ma ti seguo per tutto il tempo. E quindi, oltre a farti la riparazione, ti faccio anche la manutenzione programmata, ti faccio, ti vendo programmi accessori, programmi aggiuntivi, aggiornamenti dell'elettronica, dei programmi di software dei tuoi prodotti. In tutto questo che cosa ci aiuta? Di nuovo, un lavoro già fatto, siamo pronti con gli elettrodomestici digitali, cosiddetti, gli interconnessi, che possono parlare all'interno della casa, possono parlare con la rete per scaricare ricette e programmi di aggiornamento, possono parlare con il nostro call center per andare a segnalare in anteprima un carico strano del motore e della lavatrice per dire tecnico di assistenza, vieni a fare manutenzione preventiva prima che la macchina veramente vada a rompersi. Sicuramente c'è una grandissima opportunità in questo senso e noi certamente siamo in posizione ottima per andare a coglierla, visto la tecnologia che abbiamo. Mi hanno detto che devo parlare un po' delle mie esperienze. Ora, francamente, parlare un po' delle mie esperienze e metterla su personale per me è abbastanza un po' delicato. E poi, se penso a quella che è veramente un po' l'esperienza unica che io ho avuto in azienda, l'unica cosa veramente che mi viene in mente è che io ho lavorato, ho 58 anni, e ho lavorato per 32 anni nello stesso settore, nella stessa azienda. Sono stato assunto praticamente prima della laurea, ho incominciato il 2 gennaio dell'80 e sono ancora lì. Ho cercato di andarmelo un paio di volte, non ci sono riuscito, però sicuramente due considerazioni posso farla. Uno, di tipo di lavoro. Che cosa è cambiato in questi 32 anni? Beh, sicuramente forse sono cambiate un po' le caratteristiche della competizione. Eravamo in Europa, ora invece c'è tutto il mondo che compete. Diciamo, la flessibilità forse ci premiava molto a quel tempo, ora premia di più probabilmente la dimensione dell'azienda, la capacità di investire in porti significativi, in ricerca e sviluppo, in innovazione di prodotto e sicuramente nel marchio. Qualche cosa che è cambiato ancora sicuramente è il fatto che il grado, la velocità di innovazione dei prodotti, dei servizi dell'azienda è aumentata in maniera enorme. e una cosa ad esempio tipica è il fatto che oggi 50% delle spese di innovazione che noi facciamo sono fatte su innovazione obbligatoria, non più discrezionale. Cioè, metà dei soldi che spendo li devo spendere per efficienza energetica, allineamento alle normative europee, allineamento alla concorrenza, per stare dietro a questo che è sì un trend, ma è anche un'imposizione, nel caso dell'Europa specifico, da parte della comunità. Quindi in pratica ho solo metà della montare disponibile per pensare cosa posso fare di più alla mia lavatrice. Dal punto di vista personale, beh, se devo dire qualcosa, 32 anni in azienda, ho perso dell'opportunità fuori? Sicuramente. La mia carriera poteva essere più veloce se avessi girato tra tante aziende? Sicuramente, certamente. Me ne sono pentito? No. Nella maniera più assoluta. Il fatto di vivere un'azienda in questo modo, per tanti anni, dà un senso di partecipazione agli andamenti dell'azienda. È negativo nei momenti duri, ma è in positivo. Un senso di gratificazione, di compenetrazione con l'azienda quando i risultati vengono ottenuti. Beh, credetemi, quando uno lavora e dedica al lavoro la maggior parte della sua giornata, è una sensazione splendida. Io mi sento di augurarla a chiunque in questa sala ancora stia plasmando il proprio futuro, la propria carriera, perché veramente penso che sia un qualche cosa, un'esperienza che sia irripetibile. Grazie. Grazie. Grazie, grazie perché ci ha dimostrato due cose, direi che continuano a tornare e quindi ci consolidano nel nostro credo. uno, mai fermarsi, continuare a pensare. Il progetto di crescita che ci ha tratteggiato in pochi minuti è un progetto entusiasmante, perché coglie, diciamo, prodotti, mercati, anche riflessioni che possono sembrare in controtendenza, quello di voler investire in Europa per motivi mi sembra più che legittimi, ma non solo prodotti e mercati esistenti, prodotti nuovi, categorie che crescono, categorie ad alto valore, categorie nuove, categorie affini. E questo dà il senso di come anche in un contesto maturo, quindi stabile, un'azienda, diciamo, dopo aver fatto efficienza, dopo aver trovato, diciamo, nella pancia del conto economico quello che poteva trovare, deve ripensare alla testa, alla prima riga, perché se non si cresce non si danno opportunità di sviluppo alle proprie persone. E poi il messaggio finale, che è un messaggio direi che traspare dalla passione con cui lei ci ha raccontato la sua esperienza e direi dal senso di identificazione con il luogo di lavoro, col gruppo con cui lei lavora. Grazie, grazie davvero per il suo intervento.